Un protagonista della Prima Repubblica, Paolo Cirino Pomicino, già ministro per la funzione pubblica dall'aprile dell'88 al 22 luglio 89 e poi del bilancio della programmazione economica fino al 28 giugno 92, ripercorre le vicende politiche ed economiche degli ultimi 30 anni in Italia e all'estero. Un'analisi cruda ma con lo humor che ha sempre caratterizzato l'ex di Cine sui articoli, ad esempio sui quotidiani, con lo pseudonimo di Geronimo, contenuta nel suo ultimo libro La Repubblica delle Giovani Marmotte, presentata al circolo canottirino di Salerno grazie all'associazione i navigatori del sapere, con un chiaro riferimento agli attuali governanti visti come novelli scout, più che come politici in grado di reggere il timone di un paese, almeno secondo Pomicino. Il trio di tutti dicono che governa questo paese, il presidente del consiglio, il ministro Boschi, il sottosanitario Lotti, ma vedete il titolo sembra irriverente, però è anche tenero. Chiere non vuole bene a cui può qua? Tutti vogliono bene a cui può qua. Difficilmente gli danno la gestione solitaria del paese, ma questa è altra questione della quale dibatteremo. Per Paolo Cirino Pomicino, che ricorda come nonostante le critiche alla Prima Repubblica il debito pubblico sia triplicato dal 91 al 2015, toccando la soglia record di 2200 miliardi di euro, occorrerebbe avviare una discussione seria ed approfondita sul ruolo della finanza nell'economia, sempre più lontana dalla vita reale. Considerazioni amare che valgono per quel che valgono. Il libro che ho scritto è il tentativo di riproporre all'attenzione di tutte le grandi questioni che il paese ha di fronte e sulle quali non sempre ci discuto. Prima fra tutte, la grande egemonia della finanza che sta impoverendo il cito medio, che sta alimentando disuguaglianze sociali intollerabili, non solo in Italia, in verità, e che sta affannando l'economia reale, cioè il ciclo produttivo, tanto per dirla in maniera molto semplice, l'uso finanziario del capitale sta ammazzando l'uso produttivo del capitale. E siccome il benessere delle popolazioni si fa attraverso la diffusione dei beni e dei servizi, quando questi non hanno le risorse si diffondono i prodotti finanziari e i prodotti finanziari alimentano soltanto ricchezze elitarie, ricchezze di pochi e naturalmente povertà di massa.